Adesso passiamo alle fiandre e chiamo sul palco Gerolf Hannemans a cui do la parola. Grazie. Signore e signori, cari amici e colleghi, buongiorno. Prima di tutto vorrei ringraziare i nostri ospiti della Lega per la loro ospitalità leggendaria. Dicio leggendaria perché mai nel passato distante degli primi anni 90 avevo il grande onore di fare un discorso al congresso della Lega Nord. In un grande palazzo dello sport in Milano si avevano riuniti, come oggi, 10.000 di simpatizzanti e militanti. Aspettando quello per il quale erano venuti, un numero di ospiti esteri prendeva la parola, come oggi. Io stesso vengo di un piccolo paese, quindi per tutti i politici fiamminghi un convegno di 10.000 uditori è un'esperienza straordinaria. Dunque, il mio discorso a Milano era un'esperienza unica e indimenticabile, soprattutto perché il fatto che parlavo italiano causa un grande e caloroso entusiasmo. Quindi vi ringrazio in nome delle fiandre per l'entusiasmo e l'amicizia di quella epoca e del presente. E vi porto un messaggio di gioia e di gratitudine da parte del nostro movimento sulla collaborazione europea che da oggi realizzeremo insieme, così che trasferiamo un altro e meglio Europa a nostri figli. Far niente non è un'opzione, allora suggeriamo qui e oggi la nostra amichizia e la nostra alleanza. Viva la Padania, la fiandre, la libera e l'indipendente! Viva la nostra amichizia europea! Only, my friends, only the brave, only the pioneers, who do not fear isolation and who are not hooked on compliments and lucrative posts, but instead try to represent their sovereign people to the best of their knowledge, only these are credible to censor the EU and its common currency. European cooperation is rooted in freedom and does not want unity, but wants diversity. We do not want coercion, but freedom. Hence, as the President of the Independence Party of Flanders, I am very glad to promise you, on behalf of Flanders, our full support and collaboration to this hopeful initiative with which we would like to redefine Europe's future and set up a cooperation in view of a true European resurgence. Freedom, freedom, freedom! Soltanto i coraggiosi e i pionieri non hanno paura di ritrovarsi isolati e si impegnano a fondo, al meglio delle proprie possibilità, per rappresentare le proprie persone. E' con coraggio dunque che vogliamo combattere per la nostra libertà, perché l'Europa è fondata sì nell'unità ma anche nella diversità. Vogliamo combattere appunto per la libertà ed è per questo motivo che io, in quanto rappresentante del partito delle Friangre per l'indipendenza, esprimo il nostro completo sostegno al progetto della Nega Nord, alla vostra iniziativa. E insieme lavoreremo appunto per ridefinire il futuro dell'Europa, un'Europa in cui potremo collaborare per poter arrivare ad una vera risorgimento, una vera rinascita dell'Europa. Libertà, libertà, libertà!